Buongiorno, sono Andrea Beccaro, è un piacere presentarvi la nuova Yamaha Absolute Hybrid Maple. Il concetto di fusto ibrido è derivato dalla serie Phoenix. In questo caso il fusto è composto da uno strato centrale di venghe con tre strati di acero verso l'interno e tre verso l'esterno. I bordi di rullante tom e timpano sono intagliati con un angolo di 45 gradi e arrotondati. Quelli della cassa presentano un angolo a 30 gradi sempre con arrotondamento. I cerchi sono diecast da 3 mm in alluminio. I blocchetti tiranti sono del tipo hooklug a sgancio rapido. Il nuovo sistema di sospensione dei tom ottimizza l'isolamento tra fusto e hardware. Su rullante troviamo uno scavo della cordiera profondo 2,7 mm e una cordiera a 25 fili in acciaio a carbonio. La macchinetta della cordiera utilizza un meccanismo a pistone. La Absolute Hybrid Maple è disponibile in 10 finiture all'esterno e laccate. A presto! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!